Stiamo simulando una situazione emergenziale nella quale un pilota si è lanciato in mare e quindi viene richiesto il nostro intervento. Il nostro equipaggio arriverà con elicottero e una volta lanciato l'aerosoccorritore che presterà le prime cure e attenzioni al pilota in mare, si effettueranno le operazioni di recupero tramite l'ausilio del vericello in posizione di statica, quindi di hovering sulla verticale del superstite per riportare quanto prima possibile il pilota nella struttura dove gli verranno prestate le cure. Un elicottero HH-139 dell'84esimo centro XAR di Gioia del Colle è impegnato nel recupero naufraghi nelle acque di Torre a Mare. Quella di oggi è soltanto una simulazione, ma l'attività degli uomini dell'84esimo centro Combat ricerca e soccorso non si ferma mai. L'esercitazione naufrago 2021 che si è svolta nel centro di sopravvivenza di Torre a Mare, restituisce al pubblico uno spaccato dell'impegno quotidiano dell'aeronautica militare nelle operazioni di soccorso, nella ricerca di dispersi in mare o in montagna, nel trasporto sanitario di emergenza di ammalati in pericolo di vita, insieme alle attività di cooperazione in favore della popolazione civile in caso di calamità naturali. L'esercitazione di oggi è stata supportata dal personale pilota del Comando Scuole Terza Regione Aerea del 36esimo Stormo di Gioia del Colle, del 61esimo Stormo di Galatina, dell'84esimo Centro Xar di Gioia del Colle e dei nuclei elicotteri dei carabinieri. L'addestramento odierno è finalizzato a completare il processo formativo dei nostri piloti ed è soprattutto finalizzato a dare quelle percezioni che possono essere acquisite durante una procedura di emergenza come quella di un ammaraggio o eventualmente nel caso in cui il velivolo dovesse essere dirottato verso il mare.